benvenuti a tutti ragazze e ragazzi benvenute e benvenuti come sempre che vi se da segma di nuova caraz tu mette traslojami tiesioghiei firma su metto passi kartoyimmo pamoka ticchiosi cad manee matto tergirdite girei ir lautiame kol jungsis piermizio roi col kasma totic de viena esciusuu bett vissatate buona tu l'abbio cad sceghtiek, nors vi se ne dò veluoju bus proga col lautiame butent giurovu priminti visiems cad jau greitei vada jasi us sabaites kita firmagini, ne ci attenanti bed dar secanti startuos na uji italu kalbos kursei ragazzi dabar matokadiusu irayau sheshi sono contento giogiosi allora, parashikiteman commentaru langhelie, armane, matote irgirpite gheret va bene? ciao lina, ciao va, lina ira patipirma, kuri man parash, piacere mio lina è un piacere vederti ashtoni giurovei perfetto ok ti chiusi cad smagei jau che tra mei parlai dottesha sventet kurios jau beghesi ciao lina ciao carissima gherjau loikas grishti prie prie moxlu nevien vai kams bet ir mums visiems va bene va bene aš irgi aš irgi mocavsi aš mocavsi ciao dario ciao dario ciao dario ciao carissimo scendien dario i linei bosti attuali kadangi van noriu pasi kartoti botei ne pasi kartoti nes sulina dar a piacita tema ne kalbeljume bet butent ira pagrintine antro ligio grammatikos tema lobe svarbite ma ragazzi ne noriu aš ne mextu su regminti grammatikos svarba ciao aida ciao carissima ciao ciao aida ma nes clausia pochia kursukaina kursukaina ne dao caciasi pa brango ma nato 6 6 6 6 6 sanmen esbuo 100 divini na dabar ira 100 5 euro aida 100 5 euro butet nao doju proga tadah priminti visiems kad nao jih kursai startuosi augretei pilna kaina ira 100 5 euro tačou vietu liko visse ne daug visse ligio se liko visse ne daug tačou visse da sakou miesta mebuti langstus ir jih papas cosi man trodo jo esi sarashe aida man trodo bene va bene allora ragazzi pradena musura jih udvilika ir pradena nori ho butet schengen schengen da rite tante trumfa i vada i buti kartini laika buti kartini laika ne smestri si io ciao cristina ciao cristina da che ben la voi malone tave pamatiti ciao cristina ciao bellissima allora ragazzi la vese ne smest mokame calbetti essa moio laiku mokame afer bet turetum e mochiti afer rasciti savo kardini bes vexmus essa moio laiku bet nevisi nevisi turbut moka pasisakiti buduoju laiku al passato nori pasakiti che i pyr i tu calboi era da ujone viena budu laika eh elia manes clausia cadapra jamuxliam scursei allora ragazzi io attaco ischito sclausimus dar carta ne xa savaiti bedar secanti savaiti vadina si sauzio penchiolita ir sauzio se sciolita di nomis prasideda visi akademia italiana di lingua ail cursei ciao italia tasca selte musu svetain e jau visca sira paskelta jerkaina norodita jerk programma is destita jeguretia d'aukio informazio sbutinei parashikite i info ata ciao italia tasca selte e sa te dar le kun ors pirmoligio curso se vieto lico ticrei ma jay bet man bet copi at vi parashikite va bene pilna curso kaina pilna vadinasi nuodabar i kibalanjo 100 penchiolica euro ne cento douggio ne ventus vadoveli vadoveli si raskir rastret dautasi autori vadoveli va bene ok elia man parashikir presi un va bene ok ragazzi buttasi scartini slaikas buttasi scartini slaikas spaz smarbiausias buttasi slaikas nam hier mutuosius bed mes scegni talvesi apie patti svarbiausia vediasi passato prossimo ripeto passato prossimo che braccio si passato prossimo lo scrivo in chat ciao cristina edward da ciao lei e auguri congratulazioni turbut cristina allora passato prossimo passato prossimo va bene passato prossimo ragazzi passato prossimo da barba matote cia armato silenta ragazzi man fa chichite arghiscas direi matosi arghere girdisi ir armato silenta va bene lina cristina aida man far scichite per favore se si vede tutto arghiscas matosi c'è niente tradizioni voodoo e io faccio passinti lenta ok ok armato si ti crei perfetto aida sacco girei bene bene oh sun chiamato si caspar cita sun chiamato si bal matosi ragazzi io per telefonato but ecranas era mage ascia per computer sa ve pino ecranu matò ti crei pa can gire cas c'hai la par cita eh esco chius capa cartosio eh ok bandisio bandisio scelte ecco riarte in tilenta un pochino un po va un pochino dar un tape va ok oh oh ciao danguole ciao carissima ciao danguole oh va cristina man patvirtina carmato serghiet di segreto va bene va bene ragazzi ragazzi va bene allora ragazzi guardare passi cartoglie visigino visigino cadetà lukalbos vix ma giudice scherzo mi i tres gruppes era scherzo mi da lina si per tres gruppes gruppe numero uno italiani sapo prima coniugazione arba che italian per moj asmenuote per moj asmenuote are per moj asmenuote are vamatote guardare casirà guardare giurete per moj asmenuote slicks magio gi bentraties formoy e be gassi are cita messia ugino me moj asmenuote cito slicks magio gi se muojo le cuno guardo guardi guarda eccetera eccetera per me sta guarda che ben si ma pia pia guardare guardare o da bar antrosios asmenuote svex magio gi turi bentraties forma ere ere ascia para show vendere vendere io sono chiamato si pacartosio vendere parduoti parduoti vendere va vabene 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 tre ciosios smenuote svex magio gi vendraties formuli e beglia si con kibudu ire te singhi ire vabene ire finire casera finire begti begti guardare vendere finire dabbè ragazzi buttassi slikas buttassi slikas in italiano ira sudarita si sveju dagli vissata sudarita si sveju dagli ok lietuvio galvoj buttassi slikas era viena slikas valgijau eijau išeijau žurejau beijau dirti pakalbejau ir taip to jau tas au dažniausia iš reiškia būtai laika in italiano buttassi skartinis slikas era sudaritas iš dviejų slikas iš kurių pirmas vadinasi pirmoy pirmoy vadinasi pagalbinis ir antroi vadinasi dalibis dabar pagalbinis ragazzi 70% drisci pastakiti ne 70% 70% atvejais ira avere vāmatu c'ha parashita avere c'ha parashita avere c'ha ira avere ira tureti dabar mes vissi mokame išas minuoti avere turbuz no te ira io ho vāmatu te io ho tu ai lui lei a vāmatu te a noi abbiamo voi avete avete il loro anno ok pagalbinis lo vais srvuk resiminti che ipergersi avere avere o ai a abbiamo avete anno il rai di as ira nors niera visur ira c'ha ira c'ha c'ha niera c'ha niera c'ha ira arne rai de as kartez ira kartez niera bet rai de as ira mūs rai de kuriā Lili liana messa pavadinti bonge liana messa iè pavadinti bonge ben paprociao se iè iè ne targa ma o ai a abbiamo avete anno va bene ok kartù su pagalbinio vex majo giù mes decime mes decime dalivi iè gubex majodis beigelsi are tada mus dalivis bexis ato irbus guardato c'è gal tre che io m'am prendet i messaggi odi bet parasciso c'è guardato guardato ok nuvo guardare turime guardato ir stei buttassi slikas ir ira ho guardato per esempio per esempio ieri casiera ieri bakar ieri io ho guardato un film d'accordo ieri ho guardato un film che bus tu giurei ai film bus tu a ver hai iran trovi dalivis mia cadane si che c'ha guardato bus tu hai guardato ok lui arbalei bus ha guardato ok bus mes giurei me mes as ir mano brolis vacar giurei un film ragazzi cittasacchini paracissite man ius patis vacar as ir mano brolis pa giurei me filma e dom filma corio srascio decita sacchini pari e po jodi ius norio per riusciti c'ha c'è tè savo requisito se ragazzi nes che vi state dar un test e ma cittas maglia tradizia io non restite presideti pri c'ho canalo curibos galessite che vi sa da presideti tuoi ok ragazzi c'ha simbolischi simbolischi i presideti parascisite che i pimon cos paschirtis un caffè ok arba parascighite buon anno su no iasis ok voilà il dario sia parace ragazzi 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 savo requisito, si egono ori te butente che in bagnicio je palitti simboli ne auca canalo Remimui ehm eh, arba arba galite, jeg un'audo iate Paypal in facca si era Italio, je un'audo iasi Paypal, irta da manu Paypal ira info ata ciao Italia, tasca se il te, tu per cui ma tocca dia un raso, te savo passi ulimus, molto bene molto bene il manatroldo bebekvi si gherai parace bebekvi si bebekvi si gherai parace allora, Darius Iulo ieri io e mio fratello abbiamo guardato un film, bravissimo Darius tic tei abbiamo Darius WB abbiamo guardato un film Lina Irgi, teipat teipi, erasio, molto bene, bravissima Aida, teipat ramute, teipat bravissimi, ragazzi vissi abba i gherai, vissi sono uoni ma non trovo cad su pratome io suve, io ma non trovo cad di crea su pratome che vekia il passato prossimo erano priantrocio sa smenuotes erano priantrocio sa smenuotes non è passati cad mano droghe mano droghe che buce mano droghe che buce mano droghe ragazzi ii ne famicimi articoli articoli orecchia ii ii mano droghe ii ne smes passati cad mano droghe pardave dverati mano droghe pardave dsavo dverati va bene droghe pardave dverati dverati va brava l'inute tei singhi i miei amici i miei amici capadare mano droghe pardave dverati naudossi mescita vex maju diventere azzargei nes dalivis bus neato betuto iertai dalivis bus venduto venduto ieguas ieguas tada bus io ho venduto betas da barca algo appiesavo drogù sapie loro iertai ghi bus iertai ghi bus cristina macio 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 allora allora ragazzi mano droghe pardave dverati bus che bus asciughe oh benissimo dario sei in forma oggi dario sei a casa o sei a lavoro dove sei fai il turno di notte fai il turno di notte careisca il turno di notte carta non carto non doiamo troga a parte i cartotti papra fai il turno di notte fai il turno di notte clausio dario clausio ar darei nachtine pamaina nachties pamaina naudindo jodis il turno di notte il turno di notte benissimo darius quindi bene bene buon lavoro buon lavoro vi seguirei i miei amici hanno venduto la bicicletta dario sanzardi in bicicletta arrasio si subiena z pra gioi quindi i miei amici hanno venduto lina codella stessa codella stessa hanno venduto la bicicletta ma cristina ergi parasio bravissima cristina te i pieri rai hanno venduto la bicicletta perfetto hanno venduto la bicicletta tei singhi bicicletta con una c ergi si parasio su dienze erdari usir il cristinute vettori buttiti te viena se quindi i miei amici hanno venduto la bicicletta d'accordo benissimo bravissimi ragazzi sono contento ma ne trovo io sgarci in tante maniera lì si scherci ma eh ma bene perfetto perfetto e in altra da prietreccio sciabloni nio vex ma finire betti finire betti va bene finire betti allora non è posso chiedi che manu deve beige dirti beige dirti diventa valanda manu deve dar bus beige dirti diventa valanda d'accordo che dirà dede dio se manu deve beige dirti venite vinta valanda bus facciamo questa frase in italiano ok quindi ragazzi proviamo la parola a voi jodis iubis bene proviamo proviamo ragazzi con io lascio prima non vi siamo cad ne sa savate ben dar secan per 16 start išna 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 visi kurse žiamo trimestras te ghi ne pragiopsocchi te butinei il corso pragiós, vietu dar irà, sceg tiek bet lo boi maggi pirmo lì io corso se vietu bevegni irà bet nel galvoio suregti treccia gruppe jegu pri reiz tei para scicchite nori imprimiti, jegu turite traugu kurie nori mochiti sispannu calbos, arba jau mochiti sispannu calbos, ir nori presiunti prie man organizzujemo kursus, tei pat neas vedu beabe io, vet collega Evelina su kuria, te kuria iscius su sispagino, vacare io mentu gruagio pragioye ves, buten vele veninute vers su kursus tei tei pat, presiunti, manatroto kadai dos, sunus butent io presiunge prie, berniat simeno che è mostro ispano kursus allora, ragazzi noi primitiviamo da lì a simena diante nevel tui passacchio nevel tui minei au dede nevel tui minei o giminaiti dede perché nes giminaiti car tu susavibili vienaskei toie artiktei vienaskei toie atseisako artikali tei veninteli siera Darius corrisgerei parasse mio zio bravo Darius cino arciazzi dittinumas arbuten tei piernorei e parashiti ma molto bene tei pierirà mio zio ha finito di lavorare allora ragazzi importantissimo da bar negutori te bravo Darius negutori te sas sausaini arba kitetarian sasi uini su kuriò rasciti e rasciti te butinei vex majo cei finire ier cominciare stasera cominciare cominciare ier pradeki arba iniziare ma prascisiu finire arba cominciare na cominciare turi sinonima iniziare ok negali eiti kartus u bentratim benieco ginocca gli edu vischietti per dar ma no tokyo resme beiju virti beiju mie goti brade mie goti eccetera eccetera benieco ti sono più sunghi a te vex ma se si autonista si beiju in italiano finire arba cominciare potinei potinei Mio zio ha finito di lavorare alle nove, va bene? Vi ricordo di nuovo, quindi mio zio, mio fratello, mia sorella, eccetera, eccetera. Niente articolo, niente articolo, va bene? Importante, importante. Peghi, mio zio ha finito di lavorare alle nove. Per rischio ci passate, niente scali buti non d'incavi siens. Scriviamo allora, mio zio ha finito di lavorare alle nove. D'accordo, va? Giurecite, farà show, d'accordo? Eh? Dabar ragazzi, a timenat che cittate i sicle, calvata per articoli, galioia, tictei, vienas, vienas, ragazzi? Ok. Eh, ragazzi, io sono in raccettura, e vi faccio un like in uscita trasliazia, ma di noi vi faccio un like in uscita trasliazia. Mi piace, mi piace. Per favore. Ok. Ok. E' importante, nel Tokyo B2 YouTube, ma ne scatina, scatina, paprasciause, scatina, ma tu muma. Nes, io ne tolì, e tu io ne tolì, tu staccio, di uscim tu, se c'è, Luca, si era, ne blocchèi. Tocchiam, nisci gli am canali, ma non manimo, eh? Va bene? Quindi mi piace. Oh, bandom, pakeisti, shita, sakini, idah, gis, chita, manu, dedes, beige, dirti, te vita. Perfetto. Lina, la nostra pirmune, come sempre, ha scritto bene, i miei zii hanno finito di lavorare alle nove. Perfetto. Esattamente così. Buden, shitei. Buden, shitei. Va bene, ragazzi? Ok. Dabar, benissimo, brava Aida, brava Aida, eh? Vabutent di, tarchitko, cominciare irgi, eh, cominciare, ragazzi, dabar, asciuglius mineiur, cominciare, cominciare, te i pat, eh, remia, si prienis, nu, bet ne di, no, non di, ma, a, cominciare a lavorare, te i passi gimeki, metta da, finire di fare qualcosa, bettika scadariti, ir, cominciare a fare qualcosa, pra bettika scadariti, va bene? Quindi, finire di fare qualcosa, ir, cominciare a fare qualcosa, sono due cose diverse, eh, bett, cittieto, veismaggio, geituri, eh, vendrei, butent, eh, priali, insinu, naudoltima, quindi, jegu, no, rečio, pasakiti, kad, pradejo, bett, pasketa, devintavala, da, pasakissiu, ho cominciato, ho cominciato, a fare la lezione, alle nove, in punto, va bene? Ho cominciato, a fare la lezione, alle nove in punto. Ragazzi, niera, viskas, teip, paprasta, niera, viskas, teip, paprasta, nes, nevisi, veismaggio, gei, me sta, avere, neis, se, veista, aver, ke kurie, veismaggio, gei, naudoiasi, kita, pagalbini, te ira, essere, irciak, tu, rečio, vis, che, stete, no, are, are, strinsiu, as, non, gali, strinsiu, ok, avere, eina, lauk, avere, eina, lauk, avere, eina, lauk, tacciou, galunes, neina, lauk, nes, galunes, era, visadato, pius, pacios, nes, varbu, apie, kurive, ex, mažu, de, kalbu, iertada, intime, vel, usumarkeri, juri, me, aciterasho, jo, rasho, te kurie, veismaggio, gei, naudoiasi, pagalbini, essere, ne, avere, bet, essere, essere, ira, nete, si, klinkas, veismaggio, disarne, essere, mamato, nete, si, klinkas, veismaggio, disarne, irregolare, nes, visi, gino, metad, disimok, amesha, smenuoti, essere, vero, sono, sei, e, siamo, siete, ir, sono, d'accordo, te, kokie, veismaggio, gei, remia, si, essere, irne, avere, kokie, kurie, veismaggio, gei, recalau, apagalbiniu, essere, vieto, e aver, ursiracium, ursiracium, visi, sangragini, azzimena, sangragini, keltis, alzarsi, praustis, lavarsi, beccuris, veismaggio, disgali, tureti, savo, sangragini, varianti, d'accordo, pa rinchi metoda, alzarsi, pa rinchi metoda, alzarsi, alzarsi, ok? casta da viksta, sangragini, dalelite, ne dimsta, ienna, visada, kartuvu, veismio, te bus, io, mi, mi, azzimena, sangragini, dalelite, smittisi, cipisi, te io, mi, pridesime, essere, sono, ir pridesime, dalivi, alzato, io, mi, sono, alzato, azzikelio, che io, si, ne naudoi, a me avere, ne naudoi, a me avere, nes, ragazzi, jegu naudocio, avere, irpasatissio, o alzato, careschia, ho, a te perciò, ciappa da rio, viena, claida, ciappa da rio, viena, claida, dicio, i strenti, allora, no, girei, io, tokyo, ne, tre, di demisio, io, ho, alzato, casbutu, io, ho, alzato, io, ho, alzato, cia, mappa, vista, cia, i strenti, permane, samone, nei, sceina, ok, io, ho, alzato, io, ho, alzato, il telefono, ho, alzato, la lavagna, ok, io, sono, alzato, ragazzi, guardare, guardare, Turetti, San Virginia, variante, non poter, bene, passi, giurei, giurei, usau, filma, giurei, usi, filma, mille, no, e che, da bus, vieto, io, guardato, io, vieto, guardare, tu, resi, me, eh, tu, resi, me, guardarsi, io, io, cia, tu, rettume, alzato, guardarsi, no, arba, passi, giurei, o, vidu, ier, ma, ciò, catturio, casca, non lo so, ragazzi, su calma, gali, ma, già, esti, no, quindi, guardarsi, buttarsi, slide, passi, giurei, che, bus, man, passati, chiedete, famigin, chiedete, eh, fai, ecco, jodi, jungs, lascio, la parola, a voi, dar carta, guardarsi, passi, giureti, giureti, sei bus, sei bus, mi sono guardato, ragazzi, ma, tocca, ma, je, cazzo, tu, but, dar, è un po' difficile, è un po' difficile, te, da, del, to, as, para, scissio, io, mi, sono, alzato, rati, nus, gius, io, mi, guardato, si, per show, io, mi, sono, guardato, rati, nus, gius, para show, es di giurio, brava lina, potentei, mi, dirà, va bene, su vendere, sargergini, su varianta, no, atrodito, che sei, atrodito, te crei, che sei, par si davio, par si davio, us, salta, us, sal, che sa come, salta, 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 i amonero, perché no, non buona, te, che gusta, da, vendere, non, asko, vendersi, sandragini, svarianta, sei, non, pagiureti, cia, vendersi, e, non, pagiureti, cia, vendersi, te, bus, uto, beh, ave, io, uto, te, da, li, businessiche, pad, pad, ad, pad, io, mi, vado, venduto, no, tuoi, Sì ragazzi, ci sono i temi e adesso vi faccio che ci sono aspira a fare un clip per gli dati mi è una questione per segnarsi questo tipo per il prossimo per il prossimo vi 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 faccio un clip butiamo qui e vi faccio un canale nel live sceltele per standard in cui va in un clip in serie T e in lingua in razzite per bus io mi sono venduto e io vi faccio a Gale oh ragazzi poi in cui vi faccio sentire io sentirsi nei c'era sangraginis xabloninis treccio sasmenuotes sangraginis vex mazudis jaustis passi iutou iu auciousi perché per io passi iutou passi iutou direi passi iutou bloguei passi iutou bloguei da arrivare tutti i path aida christinute ne vienlina ne vienlina christine i redgrass va bene d'anguole ok perfetto mi sono sentito bravissima ramute molto bene ramute mi sono sentito ragazzi non aiuta ciò da bar mi sono sentito quei singoli calba mi sono sentito calba motoris mi sono sentita bravissima da bar iu calba duvirei il passato mes passi iutou direi te che passa kis noi ne famischi mesi angragines dalle lites ci siamo sentiti bene lo scrivo lo scrivo noi ci siamo sentiti bene ho iu dvi motoris calba te i bus te i bus che i bus noi prego ragazzi la parola a voi noi da li vauti dei rius dario va bravo dario si mi sono sentito male perfetto perfetto da bar io calba di motoris che il che ci si dal lì pagal veic noi ci siamo sentite bene noi ci siamo sentite bene va bene ragazzi apie butte i cartini laica antramelighe pradet incalbetti nei starto ne sdarturime us beitti avvieno primo modulo programma beige primo modulo programma ma manou vassario pra gioie vassario pra sausio galè sausio galè galiau arba vassario pra gioie preklaussi no musso gruppe smoky mossi tempo se tada per desimis nagrineti butei i cartini laica va bene tei nè si metri to starto tak kiko su buto io cartini laico prasida da ir antras vadovelis antras vadovelis kuri gausite che bisada elpe express pastomato ho gia tutti vadoveli eh ten ten gulli di simano naughi vadoveli jau parlo sti fium timuli va bene bet antram ligui visdar ne rikeste naugius vadovelius is si si dite tarp sausio ir vassario pra gioss va bene ragazzi bisogna andare a lavorare lascio dario ciao dario buon lavoro ti aspetto tra dieci giorni ti aspetto tra dieci giorni e aspetto un caffè scherzo ci vediamo ci vediamo tra dieci giorni circa dario buon lavoro buonanotte ok ehm si ragazzi essere era began began suscito da lì essere naudoiasi da lì stato essere grazie grazie mille dario sei un grande bravissimo buon lavoro buonanotte ci vediamo presto eh ci vediamo presto quindi essere bus io sono stato arba sono stata tu sei stato arba sei stata ne pa mi schiene motric cos dimine lui lei è stato arba è stata ne pa mi es che me noi siamo stati arba siamo state ne pa mi schiene motric cos dimine voi siete stati arba siete state ir loro sono stati arba sono state voilà che ma tutti essere erano in disciplina non do si dali vissi stato erano do a paz sa ve che pagal mini o avere i rati ciclindas avere bus avuto, e questo non dobbiamo sapere, uscire a ciò che è subito, non c'era io che ho netto ciclindro, non c'è come vex maggiore, e bus avere bus io ho avuto tu hai avuto lui ha avuto ok noi abbiamo avuto voi avete avuto il loro hanno avuto che è matote bus io ho avuto se non c'è un'altra cosa se non c'era teciclingas tu riuscite ai patumi ma non dobbiamo sapere che pagano bene per esempio non lo so ho avuto fortuna non passi se che va non passi se che ho avuto fortuna sono stato fortunato sono stato fortuna ho avuto paura ho avuto paura scubeio che bus scubeio schipirà scubu ho fretta la parola a voi pa scubeio scubeio pa scubeio tu riusciti tei che bus ne passa chissi che per scubeio tu riusciti scubeio ma avere fretta scubeio bus scubeio bus italiana ma raccio per messanger allora ho avuto fretta ragazzi bus dei io ho avuto fretta ragazzi avere paura scubeti avere fretta mansalta ho freddo ho avuto freddo manscelta avere caldo ho avuto caldo non lo so tu rai o alchi ho avuto fame ma netroschino ho avuto set eccetera eccetera città avere plus dei tavar di sira la be da struttura ish re schiant antiprus po ius arba po ius va bene quindi ho avuto paura ho avuto paura ho faccio una lezione youtube va bene ragazzi allora io accademia ne va andai io pre io can agrete c'è irma reichia e ti ne srito em sticheltis rechia veste vaj che mo kitla jau prezide da rutina moritoio se ragazzi turgunte vien ne man vien am bet vissiem quindi ne pamish kite ne citta savait vedal secan cha prezides cursa e gaus ide pra decima vissi kasi jau usi registravo gaus preminima apie curso praja ne trucus jau paskel si usi mimo nau ya tvarkar esti facebook che te vissi da secite naujenas academia italiana di lingua facebook o pustapie ok ir te vat catar norio pasakiti yegu just unite dar viss dar gauti diploma er negale jute ate i xvete te jone gavote man para shikite nes i si su artimia su metur qui er lichita savait va bene appiesto vikla kalbant viet operatis che ne vier ok ragazzi dei la vede rete ci smette i su si pilde butent dal idio saras stai viet operatis che ne vier nor spier ragazzi esce su lans tu stai yegu cas nor la bai nore presi un ti va pa y dal litte dal cabo casca su galvosime va bene quindi yegu turite vissata paracicchi dei info at ciao italia 307 arba ipm per messengeri per mano smenine mess arba per accademia italiana di lingua messenger va bene ieri pascudese dal lì ma stai fatti ispanou calvos cursi in s che ora in spagna organizzò io te fatti ispanou calvos cursus curiù vedun ne as beh ce smette is collega evelina nè nuovo buon anno bell sunau jau se ius vissus susitixime jau greitei rimanete con me rimanete con accademia italiana di lingua ciao italia punto lt a prestissimo buonanotte alla grande ciao a tutti a presto Grazie a tutti.